Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport e del Campo Sportivo del Comune di Vignole, Borbera, in provincia di Alessandria, in Piemonte. La cifra preventivata per gli interventi di efficientamento dell'isolamento termico, delle calde a condensazione e del solare termico era quella di oltre i 200.000 euro e tramite la consulenza di riesco sono stati ottenuti 80.000 euro di conto termico. Il Comune in pratica ha ridotto il costo di oltre due terzi pagando solamente 73.000 euro su 205.000 preventivati. Senza oneri e preoccupazioni per il Comune ha pensato a tutto riesco in partnership con l'impiantista.